Riusciva a far ripartire il proprio trento offensivo ma aveva anche rischiato molto poco dietro. Crociata, ancora il pallone dentro, c'è Fabro con il mancino ed eccolo il raddoppio immediato. Nell'arco di 120 secondi il Milan si porta sul 2-0 dopo Cutrone, realizza anche Michael Fabro. Si fa sempre trovare al momento giusto, al posto giusto. Qui a Rimorchio riesce a reggere comunque la sbagliata uscita da parte della linea difensiva del Cagliari. Per lui è da quella posizione, è un gioco da ragazzi, metterla dentro. Sfortunata in questa circostanza la retroguardia Cagliaritana con Shintu che di fatto ha servito un assist perfetto a Fabro, liberissimo all'interno dell'area di rigore. Colpito con il mancino, un tiro preciso e potente sul quale Carboni non c'è.